ciao a tutti ragazzi qui è Narkwitz che vi parla benvenuti in questo nuovo video tutorial come potete già capire dalla copertina del video tratteremo il tema delle famiglie parametriche in Revit vi darò guidandovi passo passo tutti gli strumenti necessari per costruire le vostre biblioteche di famiglie in Revit prima di iniziare però vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale vi prego mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di YouTube e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti ok ragazzi per cui mi rego in Revit e sotto la voce famiglie vado a cliccare su nuovo a questo punto non dovrò fare altro che scegliere la categoria della quale voglio creare la mia famiglia nel caso specifico andremo a scegliere modello generico metrico che va bene più o meno per mobili, arredi, volumi generici in generale ma comunque in ogni caso ve lo mostro a breve potrete cambiare in ogni momento la categoria della vostra famiglia recandovi qui in alto sotto parametri e categorie di famiglie avete la possibilità vedete qui sono elencate tutte le categorie che Revit mette a disposizione avete la possibilità di cambiare la categoria in qualsiasi momento a questo punto vado a preparare il mio file di lavoro creando una serie di piani di riferimento che non sono altro questi piani di lavoro qui in verde tratteggiato quindi vado nella scheda Crea, Gruppo, Riferimento, Piano di Riferimento ho scorciato la tastiera RP quindi ragazzi andrò a creare una base rettangolare con i piani di riferimento perché il mio obiettivo è quello di creare un blocco di estrusione quindi una geometria molto semplice andremo a realizzare una semplicissima famiglia di arrido l'obiettivo è quello di darvi gli strumenti base in modo che poi possiate sviluppare da soli le vostre famiglie è importantissimo, e questo lo faccio sempre, rinominare i piani di riferimento quindi andrò a selezionare quello di sinistra, a rinominarlo sinistra destra lo rinomineremo con destra, sopra e sotto questo può rivelarsi molto utile ragazzi perché nel caso di famiglie molto complesse con decine e decine di piani di riferimento presenti all'interno del file può rivelarsi davvero faticoso trovare il piano di riferimento che ci occorre per poterci poi agganciare alla geometria e quindi parametrizzarla pertanto rinominare i piani vi consentirà di trovarli molto più facilmente bene ragazzi, la base del nostro blocco di estrusione è pronta in termini di piani di riferimento andiamo, leghiamoci nella scheda a nota e scegliamo allineata o DI da tastiera e andiamo a realizzare delle quote in questo modo qui quindi una per la larghezza del nostro blocco e una per la profondità e andiamo a dire poi a Revit che queste quote qui accoglieranno i parametri che abbiamo appena citato quindi la quota in basso, la larghezza, questa qui vado a digitare Crea Parametro sarà appunto il mio parametro larghezza andrò poi a dirgli se si tratta di un parametro tipo o istanza anche in questo caso andate a vedere uno degli ultimi tutorial dove spiego proprio la differenza tra questi due tipi di parametro e vado a scegliere parametro e tipo tipo vado a digitare OK e vedete a questo punto la quota avrà accolto il parametro a larghezza lo stesso farò per la quota disposta qui in alto che sarà la mia profondità sarà anche in questo caso un parametro tipo, parametro di famiglia vado a cliccare su OK poi prima di procedere a creare il parametro per l'altezza del blocco vado a realizzare ulteriori quote in questo modo, cliccando sul piano di riferimento di sinistra quello centrale e quello di destra e dicendo a Revit che i due estremi devono disporsi e muoversi in maniera simmetrica la stessa cosa vado a fare qui per la profondità del blocco e vado poi nella vista di prospetto, fronte o retro, è la stessa cosa a realizzare un ulteriore piano di riferimento qui disposto in alto vado ad ancorarlo a una nuova quota che accoglierà il parametro altezza anche esso di tipo tipo vado a cliccare su OK ragazzi il gioco è quasi fatto non mi occorre che ritornare nel livello di riferimento, quindi la vista di pianta recarmi nella scheda Crea gruppo forme estrusione andare a scegliere come rettangolo, come modalità di schizzo e andare a schizzare il mio profilo di estrusione in questo modo prima di digitare OK dovrò ancorarlo ai piani di riferimento in modo che al cambiare, al variare delle dimensioni, dei parametri dei valori, scusate, dei parametri che abbiamo realizzato anche la geometria cambierà le proprie dimensioni quindi vado a scegliere il comando a linea o a L scorciato da tastiera e vado a scegliere prima il piano di riferimento al quale voglio ancorare la mia linea e poi la linea che deve essere ancorata e vado a chiudere il lucchetto lo faccio per tutti i lati del profilo e vado poi a confermare l'operazione lo stesso faremo per l'altezza del nostro blocco vedete è molto più in basso rispetto al piano di riferimento che rappresenta l'altezza della geometria quindi vado semplicemente a trascinare l'estremità superiore fino a intercettare il piano di riferimento e poi a chiudere il lucchetto a questo punto non dovremmo fare altro che possiamo aprire una vista 3D per esempio e testare la nostra geometria quindi mi reco nella scheda tipi di famiglia e vado, vedete, qui sono presenti i tre parametri che abbiamo realizzato prima vado a modificarne i valori per vedere se la geometria cambia anche le proprie dimensioni quindi vado a inserire dei valori totalmente a caso 500 per l'altezza funziona correttamente larghezza portiamo da 1800 mm tutti i dati nell'editor della famiglia sono espressi in millimetri giusto per informazione profondità 800 vado ad applicare vedete la famiglia reagisce correttamente e vado a confermare l'operazione a questo punto ragazzi potremmo pensare per esempio di aggiungere una simbologia 2D in pianta in modo che la geometria, il 3D, il corpo 3D sarà visibile nelle viste di 3D nelle viste di prospetto magari di sezione per quanto riguarda la pianta per esempio supponiamo che si tratti di un armadio vorrei avere in pianta una simbologia 2D tipica della rappresentazione in pianta degli armadi con un simbolo ad x quindi mi regalo una vista di pianta a livello di riferimento vado a nascondere la geometria digitando hh da tastiera o in alternativa potrebbe essere quella di selezionare il corpo recarci sugli occhiali e dire a Revit di nascondere l'elemento è la stessa cosa quindi mi reco nella scheda a nota vado a scegliere linea dei simboli e vado a realizzare con lo strumento di schizzo rettangolo un rettangolo in questo modo vado a fare la stessa cosa che ho fatto per la geometria quindi vado ad ancorare le linee ai piani di riferimento scegliendo prima il piano di riferimento e poi la linea da ancorare e a chiudere il lucchetto molto importante in questo modo qui poi seleziono le quattro linee che ho appena creato e nascondo anche queste hh da tastiera mi reco nuovamente nella scheda a nota linea dei simboli e vado a realizzare con lo strumento linea disponendomi col cursore del mouse vedete sulla x tra i due piani di riferimento intersezione in modo da ancorare sin da subito la linea all'intersezione dei piani di riferimento vado a realizzare il simbolo che voglio rappresentare in questo modo qui poi riaccendo la visualizzazione degli elementi elementi che ho nascosto recandomi sul simbolo degli occhiali e ripristinando la vista seleziono tutto mi reco sotto filtra e dico a Revit di selezionare soltanto il modello generico che è sostanzialmente la mia geometria la geometria che abbiamo creato all'inizio e vado a dirgli sotto impostazioni visibilità che questo elemento 3D non dovrà essere presente in pianta proprio perché in pianta avremo la nostra simbologia 2D quindi vado a confermare l'operazione a questo punto qui ragazzi testerò la mia famiglia all'interno della famiglia attivando la preview del comportamento della famiglia in progetto che è praticamente questo simbolo che vedete qui in basso anteprima visibilità praticamente attivando anteprima visibilità si attiverà un riquadro arancione intorno allo spazio di modellazione che sostanzialmente vi permetterà di vedere già all'interno della famiglia come si comporta la famiglia stessa all'interno del progetto come si comporterà la famiglia all'interno di un progetto quindi potete già notare che all'interno della vista di pianta il mio modello generico cioè la geometria 3D che ho realizzato all'inizio non è visibile infatti se dovessi col cursore del mouse selezionare tutto ciò che c'è all'interno dello spazio di lavoro e recarmi sotto filtra vedete le uniche categorie che risultano essere state selezionate sono le linee 2D questo perché ho detto a Revit che la geometria 3D in pianta non dovrà essere visibile a prescindere dal livello di dettaglio quindi adesso faccio un test rapido della famiglia all'interno di un progetto quindi mi reco sotto la voce file nuovo progetto vado a scegliere modello architettonico come file di modello digitok ritorno all'interno del file di famiglia e vado a dire a Revit di caricarlo all'interno del progetto dispongo la famiglia in pianta all'interno del progetto e vedete in una vista di pianta visualizzerò la mia simbologia 2D recandomi poi a una vista 3D avrò il mio armadio che è una geometria molto semplice in questo caso avremmo potuto realizzare le ante anteriori magari non so una sorta di mensola all'interno avremmo potuto renderla molto più complessa però per mostrarvi che i parametri che abbiamo realizzato all'interno della famiglia saranno ovviamente da trovare sotto la voce modifica del tipo perché si tratta di parametri di tipo tipo qui avrò vedete i miei 3 parametri che ho realizzato altezza, larghezza e profondità e cambiandoli portando l'altezza a 2 metri la larghezza a 1,80 possiamo lasciarla così e la profondità a 60 cm sì, dobbiamo aggiungere il punto errore mio 0.6 e applicando le modifiche la geometria ovviamente si adatterà di conseguenza ovviamente ragazzi anche la simbologia 2D quindi mi riego di nuovo in pianta avrà riadattato le proprie dimensioni perché abbiamo parametrizzato, abbiamo collegato anche le linee di simbolo ai piani di riferimento l'ultimissima cosa che voglio fare è regarmi di nuovo nel file di famiglia e attribuire al corpo, alla geometria 3D un materiale quindi mi rego nella scheda delle proprietà sotto la voce materiali e finiture vedete, in parametro materiale vado a digitare questo tasto associo a parametro famiglia mi si aprirà di nuovo la scheda di associazione del parametro famiglia e vado a crearne uno nuovo sarà in questo caso, vedete, un tipo di dato materiale anche esso di tipo tipo e materiale, come nome gli attribuiamo, materiale armadio vado a confermare l'operazione di nuovo a digitare ok vedete, a questo punto il parametro materiale sarà rappresentato in grigio perché adesso è associato il parametro che abbiamo realizzato noi poco fa vado a caricare nuovamente la famiglia nel progetto vado a dire a Revit di sovrascrivere la versione esistente mi rego una vista 3D seleziono la geometria mi rego sotto modifica del tipo perché anche materiale in questo caso sarà un parametro di tipo tipo e vedete, a questo punto sotto la voce materiale e finiture avrò il mio nuovo parametro materiale armadio vado a cliccare sui tre punti qui all'estremità destra e vado ad associargli un materiale in questo caso, vediamo un po' se troviamo un tipo di legno legno vediamo un po' cosa otteniamo arredi, default arredi, per esempio associamo il materiale, confermiamo l'operazione e a questo punto se dovessi cambiare da linea nascosta a ombreggiato visualizzerò anche il colore del materiale che ho associato ragazzi, se avete bisogno di questa famiglia che abbiamo realizzato insieme per utilizzarla nei vostri progetti la trovate sulle mie due piattaforme Kofi e Payhip vi posto il link di entrambe le piattaforme in descrizione se avete delle domande vi prego di scrivermi nei commenti e se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like noi ci risentiamo nel prossimo tutorial ciao